L'ombra di Dario Franceschini alleggia su Palazzo Chigi perché il potente quotidiano il giornale dice che ci sono manovre per portare il potente ministro Dario Franceschini al posto di Conte, del nostro premier Conte perché Dario Franceschini sarebbe ben voluto sia dal Quirinale che dal Vaticano, c'è scritto così nell'articolo colletto, Dario Franceschini sarebbe tanto ben voluto dal Quirinale e dal Vaticano, per cui si dice che presto Dario Franceschini potrebbe andare al posto del nostro premier Conte, ma carissimo quotidiano il giornale ma tu ti dimentichi un'altra cosa ancora più importante relativamente al potente Dario Franceschini? Caro quotidiano il giornale questa cosa importante te la ricordo io, Dario Franceschini è un uomo di potente cultura, non solo è ben voluto dal Vaticano e dal Quirinale, ma è tanto ben voluto anche dalla casa editrice la nave di Teseo, la nave di Teseo, è tanto ben voluto il potente ministro Dario Franceschini, è tanto ben voluto dalla neo casa editrice la nave di Teseo che è stata fondata da Elisabetta Sgarbi e sorella di Vittorio Sgarbi. E sai perché? E sai perché? Il potente ministro Dario Franceschini è tanto ben voluto dalla neo casa editrice la nave di Teseo? Semplice, perché dentro la potente casa neo casa editrice la nave di Teseo, fondata da tempio fa da Elisabetta Sgarbi e da Umberto Eco quando era ancora vivo, dentro la potente neo casa editrice la nave di Teseo ci lavora una figlia di Dario Franceschini che si chiama Caterina Franceschini, capito? Ce lo dovevi scrivere tu questo potente quotidiano il giornale che Dario Franceschini non solo è ben voluto dal Quirinale e dal Vaticano ma anche dalla potente neo casa editrice la nave di Teseo perché dentro la potente neo casa editrice la nave di Teseo ci lavora una figlia di Dario Franceschini che è la bella, brava e buona Caterina Dario Franceschini, andate a informarvi perché Serafino Massoni non finge ipotesi, capito? Non finge ipotesi perché Serafino Massoni è questo qua, capito? 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 Potente quotidiano il giornale? La prossima volta che parli di Dario Franceschini non limitarti a dire che egli è tanto ben voluto dal Vaticano e dal Quirinale ma devi dire che è tanto ben voluto anche dalla potente neo casa editrice la nave di Teseo perché dentro la potente neo casa editrice la nave di Teseo ci lavora una delle figlie di Dario Franceschini che è la bella, brava e buona Caterina Franceschini ok cari amici a tutti tanti tanti saluti da Serafino Massoni